a giocare qua non vi devo dire niente con l'app sempre con l'app colpo per colpe questo abbonamento due colpi solo due colpi un attimo solo prendiamo l'app e andiamo qua un attimo solo ma eccolo qua ma non è finita qua ma c'è stato questi altri quelli più piccoli da bgb eccoli qua questo giusto per così questo è tanto per gradire niente di che le facciamo vedere lo stesso poi c'è due secco non me la fa leggere perché le foto non sono mandate come cristo comando giustamente e questo non li fa legge vediamo quest'altra pure poverina se ce li fa legge altri nomi amici miei questo c'è poco da fare ciao